Non possiamo fare a meno di abbandonare i nostri vivai perché sono essenze vive e quindi dobbiamo coltivarle nonostante ci sia questo aumento dei costi. Noi non possiamo dire sospendiamo o diminuiamo la produzione. Sono due gli elementi che stanno pesantemente mettendo in difficoltà il settore florovivaistico e agroalimentare in Toscana. La carenza e il maggior costo delle materie prime e l'aumento esponenziale dei costi energetici. Anche i vivaiisti toscani lo denunciano a margine di una conferenza stampa in Regione. Impossibile programmare e lavorare se non possiamo prevedere quanto spenderemo in bollette, il cui aumento dicono ci sta già mettendo in enorme difficoltà. Enormemente e forse nell'ambito agricolo tra i settori che ne soffrono di più, per un motivo molto semplice. Le nostre colture hanno bisogno di cicli pluriannali. Una pianta mediamente va sul mercato minimo dopo 3-4 anni. Oggi noi programmare costi sulla base di questi prezzi, sia delle forniture delle materie prime, sia dell'energia, è un salto nel buio. All'appello dei vivaisti e degli agricoltori hanno già fatto seguito alcune azioni da parte dell'assessorato guidato da Stefania Saccardi. Sul costo del latte alla stalla, ad esempio, è stato aperto un tavolo con la grande distribuzione e più volte su questi temi è stato sollecitato lo stesso governo.